Perfetto, io sono Otti di Pura Fibra Italiana e in questo video, se voi non lo vedete, salva il mondo! Mi piacevano i miei capelli oggi, quindi ho deciso di non mettere il capellino da 50 centesimi, quindi non chiedetemi, ho comunque fatto un attaccato. Come avete sicuramente letto dal titolo, in questo video parleremo dei superstiti e capiremo innanzitutto a cosa servono. Allora, a cosa servono i superstiti in generale, ossia le carte queste qui che voi, diciamo, ottenete aprendo i lama. Si possono ottenere aprendo lama e magari di tanto in tanto ce ne danno tipo come ricompensa delle missioni. Non possiamo trovare le missioni, quindi le missioni salva i superstiti non c'entrano assolutamente nulla con questi, che sono, diciamo, delle carte che conferiscono di vantaggi. Questi vantaggi sono, diciamo, identici per ogni eroe. Adesso andremo a vedere, per esempio, questo eroe qui ha una salute, ha uno scudo e chiaramente, diciamo, questa salute può essere aumentata, così come, diciamo, il suo scudo. Come si fa? Appunto con le squadre superstite che noi vediamo qua. Come vedete, la prima cosa che si nota sono le statistiche del forte, ossia la fermezza, l'offensiva, la resistenza, la tecnologia, più eventuali bonus. Infatti, questi superstiti, combinati nelle giuste combinazioni che tra un po' andremo a vedere, forniscono dei bonus, che, per esempio, ci forniscono il 15% di scudo in più, il 10% di danni base inferti, eccetera, eccetera. Allora, diciamo che i superstiti si dividono principalmente in superstiti leader, ossia il capo di un eventuale gruppo. Quindi qua abbiamo la squadra soccorso, qua abbiamo la squadra attacco alfa, GIC, squadra ingegneri e così via. Ognuna di queste squadre ha chiaramente un leader. In questo caso è importante che il nostro leader di ogni squadra sia, diciamo, il giusto per quella determinata squadra. Come si fa a capire? Quando noi andiamo, diciamo, nello slot leader, e voi magari li avete bloccati questi slot, questi slot si liberano, diciamo, andando avanti nel nodo abilità. Quindi è una cosa che fate progredendo nella campagna, è una cosa che viene in automatico. Comunque, clicchiamo su lo slot. Come vedete, l'icona di questa squadra è il bilanciere. Infatti, lui, qua in basso, ha l'immagine del bilanciere. Questo significa che lui ha come squadra adatta proprio questa. Per esempio, quest'altra, anche ha il bilanciere, però come vedete è solo leggendario. Io ne ho uno mitico, quindi chiaramente uso quello mitico. Ma non è l'unica cosa a cui dobbiamo fare attenzione. Anche se, diciamo, è molto influente, perché se noi mettiamo il giusto caposquadra, avremo chiaramente un bonus per tutti gli altri. Infatti, se io lo togliessi, se mettessi un altro, come vedete, calerebbero tutti. Perché? Perché lui non c'entra in questa squadra. Lui c'entra nella squadra con la lampadina, che non è assolutamente questa, è invece quella finale. Infatti, qua lui è quello giusto. E quindi fornisce un bonus a tutti gli altri. Però non basta. Per, diciamo, ottenere dei bonus in più, è importante anche che il carattere di ogni superstite coincida. Vedete, infatti, questi simbolini che sono tutti gialli, tutti insieme. Questo perché tutti hanno il carattere che coincide. Mettete che io tolga lei e mettessi lei. Vedete che lei non ha un carattere che coincide con tutti gli altri. E quindi, alla fine, lei si vede che non è illuminato. È importante, quindi, che il carattere dei nostri personaggi coincida sempre. In questo modo avremo il bonus massimo. Qualche consiglio in più da dare su questi superstiti è il fatto che cercate di tenerli solo leggendari, mitici e epici. Non tenete quelli blu e quelli verdi, e neanche quelli grigi, perché fanno veramente schifo. Non potenziateli assolutamente. La cosa che io vi consiglio è di potenziare assolutamente quelli mitici se li avete. Io ne ho, anche parecchie, devo dire che sono stato molto fortunato. Quindi li potenzio sempre al massimo del loro livello. Perché chiaramente potenziandoli ottengo più bonus e alla fine si vanno a incrementare queste statistiche qua, oltre che queste qua. Chiaramente, dove li riscontriamo poi questi aumenti? Infatti, per ogni punto che c'è qua, il nostro personaggio avrà tot percentuale in più di scudo, di vita, di resistenza, di tecnologie, eccetera. Quindi, chiaramente, quando io gioco magari il soldato, che ha un tot di danno, ha magari mille... Cioè, questo è il totale dell'offensiva del soldato mista a quella della nostra casa. Quindi, è molto importante avere delle squadre superstiti buone, con i caratteri che coincidono e con l'abbinamento leader che coincide. Perché questo ci incrementerà di tantissimo poi le percentuali di resistenza, danno, eccetera, eccetera. Quindi è veramente importantissimo riuscire a far combaciare tutti i bonus. Quando andate in tutti i superstiti, io vi consiglio di tenere assolutamente sempre, 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 tutti quelli sia epici, che leggendari, che mitici. Di non darli mai via, mai, mai. Invece date sempre via quelli blu, verdi e bianchi. Quelli non saranno assolutamente nulla. E potenziate le varie cose in base a quello che più vi serve. Per esempio, se io voglio avere il massimo, massimo, massimo dell'attacco, quindi dell'offensiva, che cosa andrò a potenziare? Le squadre di offensiva, quindi questa qui che è di offensiva e questa qui che è di offensiva. In questo modo so che farò il massimo potenziale di danno con le armi sia corpo a corpo che a distanza. Se invece gioco spesso i costruttori o se comunque voglio fare tanto danno con le abilità, dovrò potenziare la tecnologia con le trappole, eccetera, eccetera. Quindi dovrò andare a potenziare le squadre di tecnologia, che sono questa qua e poi quest'altra. È molto importante quindi decidere bene dove livellare i superstiti, io comunque ce li ho bene o male tutti al massimo, ora devo solo farli salire di livello e continuare a livellarli. Però mi saranno le gocce di pioggia, veramente ne ho pochissime e quindi ora non li sto livellando tantissimo come vorrei. Come ottenere i bonus delle squadre? Allora, chiaramente questi personaggi che non sono leader qua non hanno, diciamo, l'icona della squadra. Hanno semplicemente delle icone bonus. Come vedete lui ha la pistola, lui ha la pistola, lei ha la pistola, loro due hanno una trappola con, diciamo, la barra della vita. Queste qua indicano il tipo di bonus che loro ci forniscono. Infatti questo tipo qua dà bonus d'orevolezza trappole. Chiaramente per ottenere realmente questo bonus non ne basta lui da solo, no, c'è bisogno di qualcun altro. Infatti, vedete, io ne tengo due perché il massimo, cioè quello che serve per ottenere questo bonus è appunto due superstiti che abbiano questo bonus della durevolezza trappole. Invece per ottenere il bonus danni a distanza, 5% in più, c'è bisogno di tre superstiti in squadra che abbiano appunto l'icona del bonus danni a distanza. Io sono stato molto fortunato, ho trovato tre persone che oltre ad avere lo stesso carattere hanno anche questo bonus. Chiaramente posso ottenere anche altri tipi di bonus sulla base dei personaggi che ho. Come vedete, gli altri personaggi che io ho, ma che hanno bonus diversi da quelli attuali, sono per esempio questo nonnetto qua, che fornisce bonus salute. Se io avessi adesso un altro personaggio che dà il bonus salute, avrei sto 5% in più di salute. Tuttavia io punto di più sul danno e appunto sulla durevolezza delle trappole, perciò tengo, diciamo, questi qua. E invece, come vedete, ho pochi bonus scudo e salute, quanto invece ne ho molto di più per i danni inferti sia dalle armi a distanza che dalle armi corpo a corpo. Chiaramente non è l'unico modo per aumentare tutte le nostre statistiche, chiaramente c'è anche l'albero delle ricerche che serve appunto a questo. Noi potenziando questi slot qua otteniamo dei vantaggi in più che poi si vanno a ripercuotere appunto sulla nostra offensiva, sulla nostra fermezza, sulla nostra resistenza e sulla nostra tecnologia. Quindi è importante potenziare anche queste sulla base di quello che a voi serve di più. Come vi ho detto prima, a me serve avere più danno e quindi potenzierò prima tutto il danno, dopodiché passerò alla tecnologia e solo dopo passerò allo scudo e alla vita che io metto sinceramente in secondo piano. Non c'è molto altro da dire se non che per ottenere superstiti è molto buono comprarseli, diciamo, dagli oggetti settimanali o dagli oggetti bonus. Diciamo che ce ne viene fornito uno ogni tot, per esempio io ho comprato il superstiti leggendario, ho comprato quelli epici perché come vi ho detto prima teneteli sempre tutti. Perché non si sa mai che magari un giorno volete riorganizzarli tutti in modo da cambiare i bonus, in modo da cambiare un po' tutto e quindi è importante avere più superstiti, come abbiamo visto, che abbiano abilità in comune. Così possiamo ottenere più bonus in assoluto e avere delle squadre esperte che ci forniscono veramente un gran vantaggio quando poi si tratta di andare a fare le missioni. Di tanto in tanto ci vengono forniti anche delle missioni secondarie, diciamo un po' ad evento, che ci forniscono dei superstiti mitici o epici o comunque leggendari. Il che queste missioni sono molto buone, sono chiaramente anche molto rare, perché veramente i superstiti mitici sono fortissimi, danno vantaggi enormi e quindi sono veramente molto buoni. Come vedete qua ci sono due missioni in questo momento, Carolina e Joel, sono due superstiti che mi verranno forniti. Non so se sono superstiti o superstiti leader, ma in ogni caso sono comunque due superstiti mitici che forniranno sicuramente una gran mano per le mie squadre. Il commento ignorante di oggi è, viva i superstiti, e voi dovete completare con una frase che faccia rima e magari un po' ridere. Anche oggi ringraziamo la pura febbre italiana, sono qua, grazie mille per essere iscritti, noi siamo già in 164.000, cresciamo sempre più. Commentate con quello che ne pensate voi delle squadre superstite, se effettivamente secondo voi hanno una gran utilità, secondo me, chiaramente, sì. Lasciate un piaccio se vi è piaciuto il video e soprattutto se vi è stato utile, condividetelo con i vostri amici e noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!